Buon pomeriggio e benvenuti al nostro TgGiorno. Ragazzi sempre più giovani sono sempre più vittime del cyberbullismo, anche se in provincia di Arezzo il fenomeno è abbastanza contenuto, secondo la Polizia Postale. Se ne è parlato in un convegno che si è svolto in provincia. Bullismo e cyberbullismo se ne discute in un incontro interessante nella Sala dei Grandi del Palazzo della Provincia. Tra i protagonisti c'è anche l'associazione Pronto Donna. Il ruolo di Pronto Donna è perché la peculiarità di questo progetto è proprio affrontare bullismo, cyberbullismo in un'ottica di genere. La violenza maschile sulle donne e il bullismo hanno un terreno comune che sono quelli degli stereotipi di genere, quindi l'idea rigida su quello che vuol dire essere maschio e essere femmina. Intervenire in questo campo in un'ottica multidisciplinare ci permette quindi di raggiungere il doppio fine. Nell'ultimo periodo riscontriamo comunque che questo fenomeno si sviluppa già in età molto precoci, quindi è importante intervenire fin da subito. Noi come Pronto Donna quello che possiamo fare è quello di sviluppare interventi di sensibilizzazione come questo nelle scuole, per far sì che tutti siano a conoscenza di quello che è il fenomeno e che sappiano come prevenirlo. Sono contenta che la provincia si è fatta promotrice di questo importante progetto che parte oggi con il convegno ma il nucleo centrale è proprio quello di coinvolgere scuole di due per ogni zona di Arezzo, una media inferiore e una superiore perché è quella la fascia d'età dove iniziano i problemi, la dipendenza anche dal cosiddetto web e poi si sviluppano purtroppo. La cosa più importante secondo me di tutto il progetto è la peer education che faremo. Studenti si confrontano, tirano fuori quello che hanno dentro, aumenta l'autostima, si fa il punto della situazione e poi si condivide con gli altri, quindi c'è il discorso fondamentalmente di comunità. La politica adesso arriva all'ok da Firenze, Nicola Carini sarà il candidato del centrodestra a Cortona, sabato si presenta Jacopo Franci per il centrosinistra con un logo particolare, chiude il cerchio la conferma di Vagnoli a Bibbiena. Niente di nuovo sotto il cielo della città etrusca perché questa candidatura necessitava solo del placet regionale, visto che il caso Cortona è finito nelle trattative dei partiti dell'Alleanza. Molto storico della destra cortonese, ex giocatore di tennis in gioventù, Carini è pronto a giocare lo smash più importante della sua carriera politica che l'ha visto essere il vertice del Consiglio Comunale dopo l'avvento del centrodestra cinque anni fa. Carini è anche vicepresidente della provincia ed è stato l'uomo cerniera che ha ricomposto i cocci di un'alleanza che si era rotta dopo la deferestrazione di Silvia Chiassai in Sala dei Garanti. Già cinque anni fa si parlava di lui come possibile candidato sindaco di Cortona, poi il passo indietro aprì la strada a Luciano Meoni con cui non ha mai avuto rapporti politici facili. Non sarà una campagna elettorale tranquilla a Cortona, prevediamo. Meoni è un combattente nato e farà di tutto per andare al ballottaccio. Sabato si presenta a Foiano nella sala Gervasi Jacopo Franci, candidato del centrosinistra. Il logo di Scilgo Foiano ha spiazzato tutti perché ha molte similitudini con quello scelto a suo tempo da Marco Donati ad Arezzo. Franci è stato vice sindaco e assessore alla cultura. È stato il più stretto collaboratore di Francesco Sonnati, adesso eredita la sua nomination. Intanto a Bibbiana non sorprende la riconferma di Filippo Vagnoli che guiderà la sua lista civica di area centrodestra. Vagnoli dopo l'esperienza con Bernardini ha preso il posto del predecessore guidando con Grande Cipiglio il maggiore comune casentinese. Una a due giorni dedicata all'orientamento scolastico, il salone dello studente per la prima volta a Proda ad Arezzo Fiere e Congressi dove sono attesi circa 10.000 ragazzi. L'obiettivo è l'orientamento alle scelte post diploma, come valorizzare le competenze personali e come soddisfare la domanda di lavoro delle aziende. Presenti università, scuole e i nove ITS della regione. Primo salone dello studente ad Arezzo ma in Toscana ne abbiamo fatti tanti per decine di anni, ne facciamo quest'anno uno a Firenze, uno a Carrara, uno ad Arezzo. In tutta Italia sono 15 tappe più due all'estero che coinvolgono circa 300.000 ragazzi. È un modo per conoscere il proprio futuro, per entrare in contatto sia con le offerte formative terziarie, quindi le università, le accademie, gli ITS, sia con le offerte occupazionali. È un modo anche per incontrare psicologi, orientatori, esperti, coach, cioè tutte quelle figure che possono aiutare i ragazzi a costruire il loro percorso dei prossimi anni. Loro lasceranno la scuola dove c'è la mamma, dove c'è il professore, la professoressa, dove vivono in gruppo, vivono in classe e si dovranno avventurare in un mondo nuovo, in un mondo d'adulti. E quindi hanno bisogno di essere aiutati, introdotti e seguiti. Il meccanismo si arriva qui tramite la scuola e si incontra direttamente l'università, l'ITS, il lavoro? Le scuole, quindi sono le scuole che portano gli studenti, certo gli studenti possono venire anche individualmente, ma sono le scuole, vengono all'interno dell'orario scolastico, come vede è mattina, siamo durante l'orario scolastico, la loro presenza è certificata con degli NFT. Aperto un nuovo tratto di pista ciclabile, si trova a ridosso della tangenziale urbana e unisce la zona delle caselle a quella di via Sette Ponti. Questo nastro rosso offre un bel effetto scenografico, siamo all'altezza della tangenziale urbana e tutto questo rientra nel potenziamento del sistema di piste ciclabili disponibili qui nel comune di Arezzo. Assessore, questi ultimi interventi che cosa hanno riguardato? Sì, con questo intervento andiamo a continuare quella che è l'attenzione rivolta allo sviluppo della mobilità sostenibile e più che altro dell'attuazione del PUMS, del piano urbano della mobilità sostenibile. In questo caso abbiamo messo in comunicazione due centri commerciali importanti, quelli del lobby e dell'Ipercop con quello dell'Aeroplex che danno la possibilità attraverso un percorso ciclopedonale di raggiungere poi quelle che sono le ciclabili esistenti che poi si collegheranno direttamente al centro. Dall'altro lato, quindi lato Ipercop, invece abbiamo realizzato un altro percorso ciclopedonale che metterà in comunicazione con un quartiere molto vissuto che è quello del quartiere Fiorentina e quindi del palazzetto dello Sport. Il costo di questo intervento a quanto ammonta? Qui siamo a oltre un chilometro di nuovo percorso ciclopedonale per un totale di 300 mila euro finanziati dal PNRR lato mobilità sostenibile che fa parte di un percorso e di una progettazione più ampia che riguarda la realizzazione di ulteriori 7 chilometri di nuovi percorsi ciclopedonali all'interno del nostro comune. I ristoranti Aretini stanno facendo i conti con una mancanza di personale che dalla sala si sta estendendo anche alle cucine. Per colmare questo divario è in partenza un corso professionale. AISA, Coldiretti e l'Associazione dei Cuochi Aretini hanno unito le forze promuovendo un'occasione di formazione per la figura di assistente per cucine professionali. Crediamo fermamente nell'importanza di fare qualcosa di positivo anche in settori apparentemente diversi da quelli che potrebbero essere gli impianti industriali che producono energia dai rifiuti. E quindi ci siamo attivati insieme a Coldiretti e insieme agli chef proprio per sostenere questo corso gratuito di 250 ore rivolto a quei cittadini che appunto hanno bisogno di professionalità e di inserirsi nel mondo del lavoro. Quindi è un corso gratuito, un corso che si tiene in parte in aula al mercato di Coldiretti e in parte presso le aziende agrituristiche, i ristoranti, degli stessi docenti. Quindi è un'offerta formativa secondo noi molto importante in questo momento appunto in cui mancano determinate figure professionali. Di resto la vostra filosofia è quella zero spreco o siete da sempre impegnati in questo campo? Sì, la filosofia di zero spreco ormai è entrata un pochino nella nostra abitudine quotidiana età. È quella di cercare di restituire tutto il possibile, in tutti i settori possibili, al territorio dove un'impiantistica pesante ma strategica insiste. Quindi la capacità di ribilanciare chiaramente nei confronti del proprio territorio, dei propri cittadini, quello che potrebbe essere un impianto sofferto perché magari non compreso nella sua interezza. Veniamo allo sport, l'Arezzo lo sappiamo ha condotto, ha portato a termine alcune trattative in questa sessione invernale del calcio mercato e una di queste ha portato in amaranto l'attaccante Joseph Ekuban, nazionalità ganese, veronese di adozione, ha già una buona esperienza in Italia, il suo fratello gioca nel Genoa. È una maglia importante questa, il numero 9 dell'Arezzo Ekuban, sei consapevole che questa è una grande responsabilità? Sì, assolutamente, so della storia di questa maglia e dei giocatori che l'hanno indossato, che hanno fatto bene la storia dell'Arezzo. Io non vengo qui con la pretesa di fare anch'io la storia, però vengo qui con la responsabilità, con la consapevolezza di poter dare una mano alla squadra e di mettermi a totale disposizione della squadra e dell'allenatore indiani e di dare il meglio di me stesso. Hai chiesto consiglio al tuo fratello? Sì, lui è entusiasta del mio arrivo qui e mi ha dato una grossa mano nella scelta, anche se è stata una scelta facilissima, perché non c'era niente da pensarci, però lui è entusiasta e mi trasmette questo entusiasmo che spero di portare in campo. Sei costretto anche a dare di più, visto che il tuo procuratore è retino? Assolutamente, lui è molto pretenzioso e quindi so che saranno delle domeniche con gli occhi puntati, però sono pronto comunque a dimostrare anche lui quello che magari lui da lontano non riesce a vedere. Tu sei giovanissimo, conosci già però la realtà del calcio italiano e sa bene che in Serie C non si fanno sconti. Assolutamente, lo so che tutto quello che si ottiene lo si ottiene sudando e questa è la mentalità con la quale sono arrivato qui, non mi aspetto regali da parte di nessuno e cercherò di guadagnarmi sul campo oppure tramite il lavoro quello che mi aspetta. Davvero eccellente la proprietà di linguaggio di EQBAN. Vediamo quali sono gli appuntamenti in programma questa sera sulla nostra emittente. Subito dopo il Tg delle 20.30 potrete assistere a Newsline dentro la notizia, in cui si parla delle polemiche sollevate ad Anghiari dalla realizzazione di un traliccio per telefonia mobile. Farà seguito 9.10, oggi a cura di Barbara Perissi, al termine prima puntata di Intim, il programma di Teletruria dedicato a come fare squadra condotto da Paola Pompei. Di seguito Riccardo Ciccarelli conduce il primo appuntamento di Generazione 3 Lifestyle. La serata proseguirà poi con Sportivamente, settimanale con Andrea Lorentini e Riccardo Buffetti. È tutto per questa edizione del nostro Tg Giorno. Grazie quindi della cortesi attenzione, buona visione e buon ascolto insieme con i nostri programmi.